ciao carmen ben ritrovata grazie per avermi invitata grazie a te per la possibilità tu sei stata da noi sei anni fa per uno showcase in cui presentavi l'album l'abitudine di tornare adesso sono passati sei anni e ci presenti volevo fare la rock star è vero che nel frattempo c'è stato eco di sirene dove tu riarrangiavi i tuoi brani chiave diversa ma la sensazione è che tu abbia bisogno di una sorta di pausa quasi fisiologica per tornare a presentare qualcosa di nuovo che ti racconti cosa deve accadere perché tu torni non è necessario che passino degli anni ecco precisi io devo essere ispirata semplicemente per cui mancanza di ispirazione preferisco fare altro non è che devo per forza fare la cantante ecco nella vita ho tanti altri interessi però se sono ispirata siccome il mio disco è come un bambino do alla luce quest'ennesima creatura e lo faccio con tutto il cuore altrimenti non vedo motivo di farlo purtroppo poi queste in questo mio diciamo processo creativo dura sei anni c'è però quando è durato meno potrei scrivere tra un anno chi lo sa in questo momento mi prendo molto tempo è un tempo dedicato è un tempo che adesso si vede tornare impugnando vediamo queste immagini di questa bambina di carmen che impugna una lampadina tascabile come se fosse un microfono usa il tavolo di cucina come se fosse un palco e sogna di diventare una rock star il sogno mi sembra essere un po il punto chiave di questo album e perché è così importante sognare per me sognare è molto importante anzi credo che sia un valore proprio da difendere e sognare non è un crimine non è neanche un qualcosa che sia in contrasto con il profitto con questa idea di profitto per cui si crede che sognare faccia perdere tempo quindi denaro siamo tutti figli del dio denaro invece secondo me devono restituirci il sogno il diritto di sognare sognare è un come dire molto importante perché si visualizza bene ciò che si vuole io credo ritengo che nella vita occorra avere bene in mente dove si vuole arrivare sognare aiuta aiuta a definire questo futuro e poi un germoglio diventa progetto il sogno nel mio caso è stato così tra l'altro sognare mi ha fatto anche voltare dall'altra parte mi ha fatto guardare a ciò che volevo potesse succedere nella mia vita per cui ce l'ho messa tutta ho messo tutti i mezzi ho messo le azioni affinché oggi io potessi godere di quello che ho e sono molto felice di avere sognato e sta succedendo si sta succedendo rimettiamoci al comando è un fatto appena in tempo respirare l'istinto di scappare non volere altro che restare non temere di guardare tra l'altro titolo è il tuo album tutte queste cose che succedono al gerundio al participio passato che succederanno io già sono proiettata nel futuro però oggi sogno cioè io sogno il futuro e poi quando questo futuro somiglia al mio sogno mi compiaccio tantissimo siamo a nonno album fatto appunto di sogni di malinconie di ricordi e di un'affermazione continua del tuo essere io sento forte e chiara la tua coerenza in questo mondo pazzo che ci sta veramente facendo traballare anche le più piccole certezze che abbiamo la tua personalità così forte artistica ma anche di persona è una certezza la ritroviamo sempre hai mai fatto fatica a rimanere coerente con te stessa? hai fatto bene a dire con te stessa perché si può sempre cambiare idea è lecito cambiare idea io ho cambiato idea tante volte nella mia vita però la coerenza verso me stessa cioè ciò che realmente desidero ciò che il mio cuore sente di voler abbracciare questa è la coerenza perché? perché io vivo per essere felice per cui devo ascoltarlo questo cuore non posso fare ciò che gli altri si aspettano che io faccia quindi questa è la mia coerenza poi le idee si possono cambiare c'è un bellissimo aforisma che dice non vi è vento favorevole al marinaio che non prende in mano il timone per me nell'idea di coerenza c'è anche questo presupposto cioè di avere la propria vita nelle mani e di essere anche padroni di cambiare idea però di avere la propria vita nelle proprie mani impegno e coerenza erano un po' le raccomandazioni che ti faceva sempre tuo papà che purtroppo non c'è più è venuto a mancare poi lo sogni e torni a scrivere di lui nella canzone armonie numeriche io da figlia devo dire che sono molto commossa dai pensieri che gli rivolgi dalle domande che gli rivolgi in qualche modo ti chiedi se lui sarebbe orgoglioso di te cosa ti rispondi? lo era quando era in vita era molto orgoglioso lui collezionava tutti gli articoli che uscivano su di me aveva una collezione impressionante di giornali ritagli di giornali videocassette perché ai tempi c'erano le videocassette registrava tutto ed era orgoglioso perché lui era musicista per cui io ho saputo cogliere questa eredità ho realizzato il suo sogno e poi da figlia diventi madre e ti interrogo nella canzone le cose di sempre questa lettera a tuo figlio Carlo chiudi gli occhi amore mio nulla può succedere vieni qui tra le mie braccia e raccontami dei diavoli fantasmi e forme che giganti questo buio amore mio ti chiedi come far a spiegargli le cose il rispetto, cosa sia il rispetto, a cosa dare valore come fai a spiegargli queste cose a tuo figlio? sai che a volte io non so spiegargli le cose perché oggi i nostri figli hanno la capacità di spiegare a noi delle cose stai imparando tu da lui di insegnarci delle cose noi non siamo stati così bravi per esempio riguardo all'ambiente alla salvaguardia degli spazi, dell'ambiente, della natura quelli della mia generazione non siamo stati così bravi quelli della generazione di mio figlio stanno crescendo proprio con l'idea di riparare i danni che abbiamo creato noi ma anche così nel menefreghismo e poi mi dico forse io l'unico modo che ho di insegnargli qualcosa è agendo in una certa maniera perché ho notato che mio figlio impara da me delle cose che non gli ho neanche detto funge da esempio e lui si riega lui osservando me, mia madre, le persone che fanno parte della mia famiglia al di là di quello che gli insegniamo e gli diciamo verbalmente lui quello che assimila veramente sono i comportamenti per cui una cosa che non gli ho mai detto, mai è quando sei invitato a cena ringrazia sempre dell'invito magari rivolgi un complimento alla donna di casa che ti invito magari porta un pensierino perché quando si è invitati a cena non gliel'ho mai detta questa cosa perché il piccolo non è che in maggio il mio figlio venga invitato a cena per cui lui vedeva sempre me e mia madre compravamo una bottiglia di vino, dei dolci, bella casa grazie all'invito alla fine di recente siamo stati invitati, non glielo abbiamo mai insegnato e lui ha portato un pensierino, una cosina che aveva fatto lui e l'ha data alla padrona di casa facendogli complimenti ha portato un pensierino con dei fiorillini di campo di sua spontanea iniziativa la famosa mela cade sempre vicino all'albero per esempio, no, cosa alle quali io tengo magari non è una cosa universale questa da noi per esempio al sud è molto importante in una domenica al mare canti se solo ci fermassimo a respirare daremo ossigeno a pensieri e parole se solo ci fermassimo a respirare col cuore daremo un po' di ossigeno a pensieri e parole se almeno ci provassimo a respirare col cuore daremo foreste riemergere da ceneri urbane la vita è una domenica al mare Hai la sensazione che non ci fermiamo mai e cosa ci stiamo perdendo nel non fermarci? Stiamo somigliando sempre più ai computer ai quali si attribuiva diciamo grande virtù negli anni 90 quando somigliavano agli uomini adesso invece l'uomo è virtuoso nel momento in cui somiglia ai computer nel senso che anche i corsi universitari, queste domande multiple c'è un certo tipo di comportamento che tende a essere molto schematizzato quindi a volte a me capita di aggirare gli esseri umani come quando aggiro il computer che non mi vuole fare un'operazione allora ci vado da un'altra parte perché c'è un po' la tendenza a essere un po' schematici non c'è respiro, respiro anche di cuore a volte basta proprio sentire, basta chiudere gli occhi, respirare e sentire col cuore vuol dire amare amare quello che si fa, provare passione per quello che si fa perché altrimenti diventa tutto grigio, sterile tutto finalizzato al profitto che in sé non credo che sia la cosa migliore per l'uomo non sia il nostro scopo io non credo proprio sai non credo proprio dovranno passare sul mio corpo per convincermi di questa cosa il denaro serve, il lavoro serve giustamente però non bisogna dimenticare l'essere umano che è sempre al centro la tua ironia è sempre stata al centro del tuo cantare, della tua canzone, della tua musica un'ironia molto intelligente, molto pungente che però non è mai stata aggressiva, non è mai stata offensiva però ci hai sempre messi di fronte a uno specchio, uno sguardo abbastanza impietoso sulle brutture dell'umanità e della società che cosa ti dà più fastidio oggi e come sono cambiate le tue battaglie un po' nel tempo? mi dà fastidio molto la superficialità cioè il fatto che mi capita di non essere registrata a volte dagli interlocutori mi dà fastidio l'ignoranza oggi è un fenomeno ahimè molto diffuso nel senso che questa cosa di poter dire ciò che si pensa sempre e comunque attraverso questi forum, come si chiamano forum io non frequento internet a volte si potrebbe anche tacere a volte si potrebbe tacere per cui ognuno si sente legittimato anche a dire qualsiasi cosa e ai miei tempi si stava zitti evitando brutte figure mio padre diceva se non sai l'argomento non parlare non è che necessariamente devi avere questa urgenza di giudizio stai zitta in genere ognuno dice la sua e adesso scindere il grano dalla gramigna cioè la notizia vera da quella falsa è difficile soprattutto adesso che i fatti vengono fuscati dalle opinioni per cui non si sa dove siano i confini dove siano i confini cioè ormai le parole prendono il posto dei fatti per cui no perché quello mi ha detto ma i fatti quali sono? qual è la realtà? i dati c'è confusione per cui c'è un tanto parlare, parlare, parlare che confonde e ci fa perdere di vista poi i fatti, la realtà questa è una cosa che mi dà molto fastidio è come si combatte questo con l'approfondimento, con lo studio non bisogna fermarsi solo al titolo di un articolo ma leggerne, elaborarne il contenuto purtroppo ci vuole tempo per andare a fondo alle cose non c'è tutto nel tempo di un tweet non si può fare tutto nel tempo di un tweet per cui forse dobbiamo dedicare più tempo alla comprensione delle cose all'ascolto degli altri all'ascolto di noi stessi c'è questa foga con cui fagogitiamo il nostro tempo e le giornate secondo me ci porta poi a un senso di vuoto che poi da qualche parte viene fuori altrimenti diventiamo tutti i maghi magone imbonitori contemporanei e poi altrimenti seguiamo i maghi magone seguiamo quelli e poi diventiamo noi stessi addirittura ci riempiono quel vuoto con una cosa facile che si chiama populismo questo tour, siamo quasi 30 date che stai affrontando in camper con le tue persone vicine tra cui tra l'altro Marina Reino è un viaggio che cosa ti sta regalando questo viaggio che non ti aspettavi? Innanzitutto è stato sempre il mio sogno quello di poter entrare in un camper io non l'ho mai fatta questa esperienza qualche volta mi è capitato un camper come camerino in qualche concerto in passato però proprio l'esperienza del camper della vita insieme a delle amiche in un camper poi ovviamente Marina è una mia sorella io ormai posso vantare questa amicizia perché queste sono le cose le grandi vittorie della vita poter avere degli amici lei mi ha fatto questo grande regalo di venire a suonare con me facendo la batterista e poi preparatissima come batterista quindi anche la sorpresa di vedere non solo Marina Rei che sta seduta alla batteria tu non ci puoi credere che sia lei ma che ha una preparazione tale incredibile da strumentista da turnista da orchestrale per cui veramente stupefacente e con lei condividere questo viaggio per cui fermarci per mangiare l'aria di sosta cosa cucino cosa non cucino anche questa convivenza non so in quanti metri quadri proprio pochi ed è un'esperienza come gita scolastica cioè ciò che ho sempre sognato ho 47 anni lo sto facendo in ritardo però ci stiamo divertendo veramente tanto tantissimo e poi sul palco credo che si veda questa cosa qua ogni tanto dormiamo fuori quando dobbiamo viaggiare la notte è l'avventura ci fermiamo negli autogrill dove c'è luce e pernottiamo è troppo bello è un'esperienza nuova inedita e il camper si sta benissimo è comodissimo caldo confortevole state macinando tanta strada tanta strada da quando è iniziato nel 96 Carlo ormai debutto a Sanremese hai compiuto questi 25 anni di carriera che hai celebrato all'Arena di Verona quest'estate insieme a tanti i tuoi amici musicisti cosa ha significato per te quella serata quel concerto? innanzitutto l'uscita dagli arresti domiciliari la fine degli arresti domiciliari questa quarantena che ci ha tenuti chiusi giustamente nelle nostre case si ritorna all'improvviso a rifare ciò per cui abbiamo lavorato tanto la musica i miei colleghi che sono tutti i miei amici perché ho voluto che ci fossero proprio i miei amici non volevo solo che ci fossero dei nomi importanti perché i miei amici hanno anche dei nomi importanti però dei miei amici persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene il pubblico gli occhi emozionati i cuori che battono è stata una bellissima sensazione quella di tornare alla normalità un miracolo quanto contenuto in questa parola che sembra banale invece la normalità tornare a respirare tornare a camminare tornare a uscire tornare non dico ad abbracciare ancora le persone però ad avere rapporti sociali è bello tornare a viaggiare 25 anni 25 anni di vita tantissimi avvenimenti ne condividi uno con noi che ancora di te non sappiamo forse tante cose sono successe tanti ricordi passano nella mia mente forse un giorno a pranzo da Franco Battiato quando lui pensava questo lo sai che fondamentalmente per me a me non mi dà soddisfazione sentirmi intelligente quando un cretino parla preferisco sentirmi cretino e ascoltare una persona eccelsa che parla e fondamentalmente lui non era così impegnativo era anche molto scherzoso cioè quello che ricordo di quest'uomo in questo momento che è venuto a mancare è anche proprio la base da cui sono partita la Sicilia il vulcano un punto di riferimento importante se forse questo episodio a pranzo a casa sua c'erano involtini di melanzane fatte alla signora Anna che lui mi faceva fare sempre perché gli piaceva mi piacevano mi piacevano sempre tantissimo beh grazie per questa condivisione questa condivisione di un Franco un'immagine di Franco che lo capiamo dal tuo racconto cosa ci vuoi raccontare prima hai parlato di sogni abbiamo detto che è un po' il fulcro di questo album e che tu stai già sognando il futuro sì sì io già lo sogno proprio lo vedo ci vuoi dire cosa vedi? dieci anni fa io scrissi un brano io insieme al mio carissimo amico Tiziano Ferro scrivemmo un brano dal titolo guarda l'alba in questo brano io a un certo punto dico già vedo gli occhi di mio figlio e i suoi giocattoli per casa guarda avevo visto tutto ancora mio figlio non era nato avevo visto tutto però una cosa l'avevo sbagliata ovvero? perché io gli occhi di mio figlio li avevo visti neri e grandi invece mio figlio gli occhi ce li avverdi giocattoli per casa? ci sono è una casa di giochi ieri mia madre è pure scivolata sul suo monopattino caspita poverina tutto bene la mamma? sì per fortuna sì per fortuna per fortuna è caduta bene Carmen noi sogniamo che tu venga presto a trovarci di nuovo nei nostri studi quello che ti chiedo nel frattempo per far sognare qualcuno che ci sta seguendo del nostro pubblico che ti ama tantissimo se vuoi dedicargli un pensiero su questo album che poi non metteremo in paglio grazie per questo bellissimo momento grazie a voi per il tempo che mi avete dedicato ti aspettiamo quando vuoi grazie vostra grazie mille ciao Carmen grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti